Io penso che dobbiamo concentrarci a queste due partite, pensare a noi, anche se purtroppo non basta pensare a noi, perché come sapete anche voi il Modena con un punto è salvo, quindi su Tirol la partita dopo con il Mantova è già salvo e quindi purtroppo lottiamo contro una malattia che c'è in Italia, quindi se questo campionato eravamo in Inghilterra a qualche parte potevi dire se fai due vittorie probabilmente ti salvi, invece non è così, e quindi il Teramo prima di tutto deve pensare a battere il Parma perché stiamo parlando di una squadra seconda in classifica che vive un momento di difficoltà ma comunque con dei giocatori di Serie B e quindi sarà sicuramente stimolante e bello comunque provare a battere una squadra di quel calibro, poi penseremo alle pari successivi. Non è che io non voglio assolutamente mettere in dubbio la professionalità dei giocatori di Mantova e Modena perché ci mancherebbe, ho tutto il rispetto nei loro confronti. Quando vado avanti faccio i danni, ho fatto domenica, ho avuto anche una bella opportunità alla fine che magari se c'era un attaccante la stoppavo con la palla, c'è un po' di rammarico, però non ci penso proprio. Gli attaccanti nostri sanno bene fare il loro lavoro e purtroppo è un periodo che si fa fatica, però non dobbiamo assolutamente mollare niente. Noi comunque come ripeto dobbiamo pensare a noi perché è comunque un momento delicato del campionato e comunque arrivare a un eventuale play out dopo due belle vittorie sarebbe comunque stimolante arrivare con comunque piazzati meglio è una cosa importante. Comunque non ci voglio ancora pensare perché bisogna pensare veramente giorno dopo giorno quasi perché è importante lavorare e vincere domenica.